Ognuno ha il diritto di praticare la propria religione senza offendere, ognuno ha il diritto, quasi l'obbligo, di dire quello che pensa senza tuttavia insultare, provocare o prendere in giro la fede. Lo ha detto Papa Francesco durante la conferenza stampa in volo tra Colombo e Manila, precisando una volta in più che ogni religione ha una dignità e che non si può uccidere in nome di Dio. Sollecitato dalle domande di otto giornalisti, il Pontefice ha parlato del processo di riconciliazione in Sri Lanka e della voglia di voler abbracciare soprattutto i poveri nelle Filippine, così come di terrorismo internazionale e delle possibili minacce al Vaticano. Dietro a ogni attentato suicida, detto Papa Bergoglio, denunciando soprattutto lo sfruttamento dei bambini in questo scenario, c'è uno squilibrio umano, la non consapevolezza del senso della propria vita e di quella degli altri. Ampio spazio è stato dato poi alla questione ambientale e alla sua enciclica sull'ecologia che dovrebbe uscire per giugno-luglio. Papa Francesco ha precisato che l'uomo è davvero andato troppo oltre con la natura, abusando di lei senza scrupoli e senza alcuna lungimiranza. La natura non perdona, concluso auspicando maggiore coraggio decisionale della comunità internazionale all'incontro di Parigi e l'uomo deve smettere di prenderla a schiaffi.